dove sono dove mi trovo il mio corpo sembra così pesante sto precipitando nell'oscurità il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito il destino di ognuno di loro si sta compiando li ho uccisi mio è stata tutta opera mia è strano non sento nulla solo il mio corpo che precipita non sento nulla 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.